E siamo al momento dei nostri ospiti di oggi, che vi ripresento, la signora Matilda Raffa Cuomo, fondatrice e presidente onoraria di Mentoring USA Italia, con il nipote Sergio Cuomo, presidente di Mentoring USA Italia. Oggi al Via, il Forum Mondiale per i Bambini, con Caldoro, De Magistris e il Cardinale Sepe, un appuntamento che torna in Italia dopo 21 anni. Lei si è prodigata affinché fosse Napoli. Perché questa scelta? Questo World Forum, come diceva mio padre, tutto il mondo è paese. Quando si trovano i ragazzi che abbandonano la scuola e c'è disagio di giovanotti, vengono a questo forum per parlare come dobbiamo fare. Mentoring, un mentore nella vita di un ragazzo è molto importante perché quando c'è disfunzione nella famiglia ci sono tre supporti, la famiglia, la scuola e la comunità. Quando c'è una mancanza e non c'è funzione giusta, c'è bisogno di un mentore, uno a uno con un ragazzo. C'è molto successo in questo programma. Al centro ci saranno in particolare i problemi della migrazione e soprattutto l'impatto sui bambini, sull'infanzia. Sì. Well, in Napoli c'è questo attore John Turturro, tutto lo sappiamo in America, penso che anche in Italia. Ha fatto un documentary per i ragazzi in Napoli e c'è molto crime, fanno la droga perché non sono in la scuola. Education è la chiave per il futuro e questo dobbiamo fare i ragazzi capire. e con Mentoring USA, Mentoring USA Italia, anche c'è Spagna, c'è Morocco, questo è, come ti dico, tutto il mondo e anche con l'immigrazione è un altro problema, un altro livello di problemi perché quando vengono le persone di altri paesi devono capire che questo culturale bisogno deve essere come un paese che tu rimani per fare meglio per i ragazzi. Dottor Cuomo, è un'iniziativa diretta soprattutto ai giovani questa? Sì, è un'iniziativa diretta soprattutto ai giovani anche perché il forum è per gli esperti, quindi centinaia di esperti che converranno a Napoli. Napoli, capitale sociale per quattro giorni, è un momento importante per l'intera comunità nazionale, quindi il messaggio va alle associazioni, alle organizzazioni sociali, alle istituzioni. Però, come diceva lei, un momento dedicato ai giovani, anzi due momenti. Mi soffermo sul The Person Changing My Life, ispirato dal libro di Matilda Raffa Cuomo. Queste personalità, che raccolto in questo libro, raccontano chi nella vita è stata la persona, quindi il loro mentore, che li ha aiutati a credere loro stessi. Il messaggio si traduce ai giovani del World Forum attraverso questa iniziativa. In quell'occasione, cinque personalità, Maria Falcone, il presidente dell'Eni Recchi e il cardinale Crescenzo Seppe, racconteranno ai giovani che è stato il loro mentore. Ecco che il messaggio sociale passa, perché in un momento di crisi, dove i ragazzi non sono più motivati, dove non hanno punti di riferimento, una testimonianza del genere, tratto dal libro di Matilda Raffa Cuomo, significa veramente tanto. In concreto il vostro obiettivo più immediato? E' quello soprattutto di creare una ricaduta sociale sul territorio della regione. Ringraziamo la regione Campania per il sostegno dato, la Curia, insomma tutti coloro che hanno organizzato questo forum e che grazie a loro sicuramente siamo riusciti a realizzarlo ad oggi. E nei quattro giorni speriamo di avere grande partecipazione. La ricaduta sociale e la sensibilizzazione che daremo ai tanti che parteciperanno e che sicuramente si senteranno in questi quattro giorni più protagonisti nel domani. Ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi oggi. Andiamo avanti con il giornale.